L'Altra Radio, bella da ascoltare Tanto non capirai, Orgoglio Berese su L'Altra Radio Tifosi del Bari, buongiorno e ben ritrovati qui sulle frequenze dell'Altra Radio per una nuova puntata, l'ultima per questa settimana di Tanto non capirai Buon venerdì 22 aprile, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli Allora, continua il Tour de Force del Bari che si appresta ad affrontare il Modena di Bergodi nel terzo impegno di campionato consecutivo in pochi giorni Come ogni venerdì, ampio spazio alla gara con contributi audio, interviste, rubriche e collegamenti telefonici, insomma puntata ricchissima E come ogni mattina, prima di iniziare, vado a salutare il mio compagno di viaggio Luca Delle Teris, buongiorno Luca Buondì Nicola, una buona giornata a te e a tutti i tifosi del Bari all'ascolto Come sempre linee aperte per i tifosi del Bari all'ascolto Chiamateci per dirci la vostra sul momento del Bari, ma anche sulle questioni societarie o magari per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda appunto la partita di domani Quello che vi chiediamo è, secondo voi, visti gli impegni ravvicinati domani contro il Modena Giusto applicare un massiccio turnover oppure no, quindi continuare a puntare più o meno sulla stessa squadra Chiamateci e fateci conoscere la vostra opinione contattandoci in diretta al numero 080-524-0424 Ripeto, 080-524-0424 Oppure inviateci messaggi o note vocali tramite Whatsapp al numero 334-38-37-444 Ripeto, 334-38-37-444 E allora, come detto, Bari che si appresta ad affrontare il terzo impegno in pochi giorni La San Nicola arriva un Modena in lotta per la salvezza, sicuramente rivitalizzato dalla cura Bergodi Bari che dovrà prepararsi ad una gara, secondo me, molto simile a quella giocata contro il Como Perché sicuramente il Modena farà una partita difensiva, lascerà pochi spazi La squadra di Camplone dovrà avere molta pazienza e tentare di far valere le proprie qualità Tanto prima o poi, l'abbiamo capito, il gol arriva Ovviamente bisognerà fare attenzione alle ripartenze e ad un Granocce che ha ritrovato la via della rete Circa la formazione credo che ci saranno dei cambiamenti In difesa penso che rivedremo Gemiti al posto del deludente Iachimoschi Ma, attenzione, Camplone potrebbe anche optare per Di Noia Di Noia che ha giocato l'ultima parte della gara di Ascoli A centrocampo penso ci sarà un duello tra Romizzi e Donati Che si contenderanno il ruolo di regista perché è vero che rientrano Mizi dalla squalifica Però Donati ha fatto bene ad Ascoli Quindi, siccome è un dubbio, Camplone ce l'ha Appunto sul ruolo di Il tre a giocarsi gli altri due posti a centrocampo Mentre in attacco forse potrebbe avere qualche chance De Luca Io non escluderei neanche Puskas che Visto il momento non brillante di maniero Potrebbe magari approfittarne e quindi giocare nuovamente titolare Intanto procede in maniera spedita la vendita dei biglietti Sino alla giornata di ieri staccati oltre 6.500 taglianti E in tribuna ci sarà ancora una volta l'uomo d'affari malese Nordin Ahmad accompagnato ovviamente dal suo avvocato Grazie a Iannarelli Insomma Luca, domani potremmo vedere quei 4-5 cambi rispetto ad Ascoli Sì, dando per scontato quelli che hai detto tu Penso che ci possa essere una nuova chance da titolare Anche per Defendi Che è uno degli uomini più impiegati nell'era Camplone Lo era stato anche nell'era Nicola prima dell'infortunio Aveva bisogno di riposare E certamente da questo punto di vista la trasferta di Ascoli Ha rappresentato un passo importante perché Defendi non ha giocato Quindi penso che ci possa essere spazio anche a centrocampo per lui Magari al posto di Valiani Che in questo periodo non è proprio brillantissimo Come il Valiani del girone d'andata Sta facendo comunque delle buone prestazioni Magari un po' sottotono Quindi Defendi penso possa sostituire Valiani Per il resto penso a Gemiti come sottolineavi anche tu In attacco penso che non ci saranno però grosse variazioni Perché comunque Maniero ha già riposato contro il Como Quindi sarebbe diciamo una sorpresa vederlo nuovamente in panchina Ma io non escluderei neanche la possibilità di vedere dal primo minuto De Luca Che comunque potrebbe magari giocare al posto di Sansone Che tra i tre, anzi tra i due fantasisti del Bari Appunto tra lui e Rossina Mi sembra quello che un pochino ha bisogno più di riposare Insomma nell'ultima partita non ha brillato tantissimo Mentre penso che sia imprescindibile Alessandro Rossina per questa squadra Penso che sia tra i pochi ad avere il posto assicurato sempre e comunque Sì Rossina credo che in questo momento sia indispensabile in qualsiasi tipo di partita Perché sai magari è vero tutte le partite sono difficili Sono partite impegnative in questo momento della stagione Però magari in casa contro il Modena Che non è comunque una squadra di altissimo profilo Si potrebbe anche optare per un turno di riposo per Rossina Perché comunque sono tante partite che gioca da titolare Quindi magari un turno di riposo potrebbe certamente fargli bene Però penso che Camplone non rinuncerà alla sua classe e alla sua qualità Che in questo periodo della stagione sta evidentemente facendo fare il salto di qualità al Bari Intanto nonostante la partita importante alle porte I nostri radioascoltatori sono ancora compresibilmente concentrati sull'affare Nordin Lo chiamiamolo così Infatti i messaggi che stanno arrivando in redazione sono tutti incentrati su questo argomento Ne leggo qualcuno, ci sono anche dei messaggi spiritosi C'è un radioascoltatore che non si firma Dice buongiorno ragazzi, vi ricordate i film di Bud Spencer Piedone d'Egitto, Piedone ad Hong Kong, Piedone lo sbirro Allora per sapere qualcosa su Dato Facciamo fare un altro film intitolato Piedone in Malesia Quindi un po' di ironia non guasta Poi c'è Carlo che ci chiede È possibile conoscere i nomi delle aziende in possesso da Dato? Grazie e complimenti per la trasmissione Poi tanti altri messaggi, gli altri li leggeremo più tardi Il Bari ha una rosa ampia e molto attrezzata Per un turnover, sono tutti preparati a giocare Per quanto riguarda la domanda di Carlo Bellissima domanda Le aziende in possesso o collegate a Nordin È stato chiesto in conferenza stampa Abbiamo fatto delle ricerche Le ricerche le hanno fatte anche i giornalisti in Malesia Però al momento non risulta assolutamente nulla Quindi nessuna azienda è collegata a Nordin L'unico legame, l'unica azienda citata Tra l'altro dall'avvocato Grazia Giannarelli In conferenza stampa È stata Finmeccanica E abbiamo capito che c'è stata una collaborazione Comunque conclusa dieci anni fa Con Nordin che si occupava della promozione Dei prodotti dell'azienda italiana Per il resto non ci sono assolutamente notizie Quindi non si sanno da dove provengano Queste risorse economiche di Nordin Quindi anche questo è un grosso punto interrogativo Cercheremo magari di scoprirlo Nel corso dei giorni e delle settimane Che arriveranno Intanto entriamo subito in clima partita Introduciamo la sfida di domani tra Bari e Modena Grazie al nostro consueto spazio riservato al doppio ex di turno Questa settimana abbiamo pescato un calciatore Che ha fatto molto bene In un Bari non esaltante di qualche anno fa Per lui 25 presenze e due reti con la maglia del Modena Mentre sono 36 i gettoni di presenza con la casacca del Bari E ben 8 le reti all'attivo Spesso ha realizzato gol molto belli come questo che ascoltiamo Buon finale di tempo del Bari Ganci, serve Pagano Dribbling secco su Patrascu E destro che batte Cassano Inutile il tentativo di opposizione Come andiamo a rivedere anche di Olivi Nestremis 1-1 dunque con la rete di Pagano Viaggio Pagano, doppio ex di Bari e Modena Che si affronteranno sabato pomeriggio al San Nicola Partiamo da te dopo un'importante carriera nei massimi campionati Ricordiamo le esperienze con Sampdoria, Torino o Regina Sei ancora nel mondo del calcio? Gioco ancora in categoria più basse Però finché il fisico regge Continua a giocare Poi quando il fisico non reggerà più si smette Sei un doppio ex di Bari e Modena Quali sono i ricordi legati a queste esperienze? Sicuramente il ricordo più bello è quello di Bari Perché era il mio primo anno di Serie B E tra l'altro ho fatto anche una discreta stagione Mentre invece Modena purtroppo finita la stagione a Marte Ho avuto un brutto infortunio Quindi il ricordo non è positivissimo Sabato Bari e Modena si ritroveranno in un match Che mette in palio tre punti fondamentali Anche se per obiettivi diversi Cosa ti aspetti da questa sfida? Come la vedi? Sicuramente diciamo che sulla carta è molto più favorito il Bari Anche perché viene da un periodo molto positivo E diciamo sta lottando per Non so se riuscirà a tenere il Cagliari Però sicuramente il terzo posto in vista dei playoff è molto ma molto importante Quindi penso sia diciamo avvantaggiato più il Bari Che il Modena Sei stato il Bari in un periodo un po' buio per la squadra bianco-rossa Era una squadra con poche ambizioni E con poco seguito di pubblico Ma che lottava Ci sono stati in vetrina anche calciatori importanti in quel Bari Ad esempio Alessandro Gazzi A quale compagno di squadra eri particolarmente legato E se c'è qualcuno con cui sei rimasto magari in contatto Di quel gruppo là eri in contatto con nessuno Però magari ero più legato a Goretti A Giorgio La Vista Che ora è a Siena Diciamo con quel gruppetto lì Nel Bari hai fatto molto bene Sei andato in rete otto volte in 36 presenze Poi al trasferimento a Rimini Il tuo cartellino era dalla Sampdoria Come mai non si rinnovò il prestito alla società di Materrese? Quello era un prestito secco Poi sai queste cose qui non lo so Perché non sono rimasto a Bari Sicuramente perché non entro nel merito Ero di proprietà della Sampdoria La Sampdoria ha deciso poi di mandarmi Con proprietà a Rimini Quindi queste sono cose tra società Io sinceramente non mi era neanche stato chiesto Se volevo rimanere Il Bari dopo il fallimento sta conoscendo una nuova realtà Grazie a Gianluca Paparesta E' recente l'ingresso dell'imprenditore malese Dato Nella società appunto Dopo tentativi andati a vuoto Sembra vicino una svolta per il Bari Che ne pensi? Hai seguito questa vicenda societaria? Sì ho letto un po' sui giornali Io spero comunque che il Bari torni laddove gli compete Che è la massima serie Sia per il pubblico Per la città e tutto il resto Quindi penso che meriti la Serie A E spero che la raggiunga il più possibile Qual è il tuo ricordo della tifoseria bianco-rossa? Guarda un ricordo su tutti Una partita Bari-Torino Perdevamo 2-0 Poi il mister al diciassettesimo Nel secondo tempo mi mette dentro Feci doppietta 2-2 E lì praticamente venne giù il San Nicola E lì il ricordo più bello È stato quello che sono stati esultati sotto la curva Sabato che partita ti aspetti da parte delle due squadre? Che atteggiamento ti aspetti in campo? Secondo me il Bari farà la partita Il Modena sarà più guardingo Si chiuderà e penso Possa puntare sulle ripartenze Però penso che se il Bari gioca da Bari Non ci dovrebbe essere partita Secondo te qual è la squadra più temibile nei play-off? Secondo me il Trapani Perché anche loro stanno vivendo un buonissimo momento E non escludere neanche l'Intella Se comunque ci arrivo Perché è sempre lì per l'ultimo posto delle offre Come ultima cosa ti chiedo di salutare I tifosi del Bari che ci stanno ascoltando Ciao a tutti ragazzi E spero di rivedervi presto in seri Tanto non capirai Beh sicuramente evoca bei ricordi di Biagio Pagano Calciatore che in quel periodo un po' buio Era tra i migliori Sicuramente tecnicamente molto molto bravo Io mi aspettavo una carriera anche diversa per lui Luca tu che ricordo hai di Biagio Pagano Lui ha citato questo Bari Torino 2 a 2 Sicuramente un calciatore che magari poteva restare a Bari Perché era tra quelli che potevano dare uno slancio a quella squadra Abbastanza piatta in quel periodo lì Sì ha parlato poi di questo mancato rinnovo del prestito Con il Bari dei Matarese Però un calciatore sì certamente dotato Da un punto di vista tecnico Che certamente avrebbe potuto dare qualcosa in più Anche alla maglia del Bari Però rispetto a tanti giocatori che in quel periodo hanno indossato la maglia del Bari C'è da dire che Biagio Pagano certamente rappresentava comunque Un calciatore tecnicamente e tatticamente molto importante Intanto continuano ad arrivare tanti messaggi C'è un radioascoltatore che da un paio di giorni ci fa una domanda specifica Noi cerchiamo di rispondere In pratica non si firma ma ci scrive Scusate come mai allo stadio non c'è più la birra La famosa birra che si beveva fino a qualche anno fa E ci hanno rifilato quell'altro schifo di birra Per favore fateci sapere Sono notizie da dare anche queste Quindi dobbiamo farlo Beh per un semplicissimo motivo Perché il Bari ha stretto un accordo commerciale Con questa nuova birra E quindi di conseguenza la precedente non c'è più Quindi anche questo è un discorso prettamente commerciale Bene, data questa risposta continuiamo ad occuparci di Bari Modena E lo facciamo ascoltando cosa ha dichiarato in conferenza stampa Uno dei veterani di questo Bari Vale a dire Massimo Donati Tornato in auge dopo la convincente prestazione di Ascoli Sì sì, l'ho fatto secondo me molto bene È una bella partita sotto tutti i punti di vista Non era facile a livello personale Perché quando mi giochi da parecchio tempo Non è facile però no Credo di averla fatta bene E basta Qualcuno ho visto che Il giorno dopo mi ha messo 5 in pagella Però a me non è che cambia più di tanto Anche perché E' stato anche 5 Sì sì Anche perché in tutti questi mesi No, è sempre stato così Che tante chiacchiere ci sono state Però a me sinceramente le chiacchiere non mi hanno mai rubato più di tanto Ho sempre pensato a lavorare E penso che se è solo quello che alla fine ti fa recuperare il terreno che hai perduto Vuoi importi di nuovo A me è più che le chiacchiere perciano i fatti E' più che me lo fanno Il presupposto che anche se non ho giocato in questi mesi Anche grazie ai miei compagni mi sono sempre sentito importante all'interno del gruppo E devo ringraziare anche la società Che nonostante appunto non giocassi mi è stata molto vicina E si è con le parole in cui fatti Quindi io non ho volato di una virgola Quando non sono stato convocato mi sono allenato al massimo Aspettando che arrivasse nel primo momento l'opportunità E' arrivata, l'ho sfruttata E però adesso non cambia nulla Cioè alla fine siamo un gruppo e abbiamo un obiettivo Poi se gioca uno, gioca l'altro Non è importante L'importante è che raggiungiamo l'obiettivo Perché sì, si gioca in undici Ma ci sono anche gli altri che non giocano Io non ho giocato tanto tempo Ma ci sono anche dei ragazzi che non giocano da parecchio tempo Quindi dobbiamo avere tutti la stessa mentalità E la stessa voglia di raggiungere l'obiettivo assieme A prescindere se uno fa in un campionato 40 presenze Ne fa 10 Perché sono dell'idea che in un campionato Una squadra che vince Molte volte sono più importanti i giocatori che giocano meno Che quelli che giocano più Partite le valutiamo sempre dopo Quando riprendiamo Però è anche vero che ogni partita è diversa l'ora dall'altra Di conseguenza ci sono situazioni diverse Squadre che affronti diverse Situazioni diverse in tante cose Quindi ogni partita ha la sua storia Ad Aspio non è assolutamente facile Loro devono salvarsi Quindi era difficile per tanti aspetti Abbiamo incontrato delle difficoltà Ma credo che le abbiamo gestite e superate molto bene Nel dicembre abbiamo passato con un mal di schiena Che era un mal di schiena importante Però non ho saltato un allenamento Però tenevo duro Poi è vero che non ho fatto bene Ma avevo anche questa cosa qua Che nessuno sa Però sono tutte cose che alla fine a me non è neanche interessa Che la gente Tantanto io so quello che faccio So che quando mi presento in ritiro All'inizio della giornata arrivo con il 5% di massa grassa So che mi alleno quando non ci si dovrebbe allenare Ma le so solo io Me le tengo per me Tanto io vado dritto per dritto Poi tutto quello che pensa la gente A me non mi interessa Secondo me pago qua a Bari Soprattutto il fatto di quello che è successo anni fa Quello stesso anni fa Però nessuno sa che io qua Ho dato tutto Pure quell'anno lì Quell'anno disgraziato che fu Però la gente si dimentica E quindi continua a parlare Parlare Il rendimento non credo Sul fatto dell'entusiasmo che ha creato Sì Anche perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere Dato Ed è una persona molto carismatica Ci abbiamo parlato pochissimo tempo Ma ti dà Quando parla ti dà qualcosa E quindi credo che sia importante Sia per noi che per la piazza Se avere una persona così Che ha obiettivi precisi Ha detto quello che vuole fare E sono convinto che quando una persona vuole fare una cosa La fa Quindi noi dobbiamo aiutare lui L'altra radio Bella da ascoltare È un Donati leggermente polemico Almeno questo è quello che ho colto da questa conferenza stampa Addirittura Donati che si è lamentato di un 5 in pagella Dopo la partita di Ascoli È un Donati che ha sottolineato come in questi mesi ha avuto comunque problemi fisici Problemi alla schiena Luca Insomma dare 5 in pagella Non so a quale giornale si riferisse Però 5 in pagella A Donati e ad Ascoli Insomma non mi sembra un voto corretto Lasciami dire che è abbastanza assurdo Perché comunque Donati ha fatto un'ottima gara A prescindere da questo io credo che molto spesso lui sia stato oggetto di una vera e propria campagna denigratoria da parte di alcuni tifosi Anche da parte diciamo di alcune testate Però Donati io penso che ogni volta in cui è stato chiamato in causa Ha sempre fatto il suo Ha sempre dato un contributo importante o meno che sia Perché chiaramente come sottolineava lui Anche chi gioca 5 minuti in una squadra può dare un contributo importante Può dare un contributo diciamo di qualità E quello che ha fatto Donati tutte le volte in cui è stato chiamato in causa in questa stagione Poi gli errori voglio dire ci stanno Fanno parte del gioco Però non si può secondo me dire Che questo Massimo Donati non possa essere un giocatore utile per il Bari Vedremo poi nella partita di domani Se dovesse essere riconfermato in cabina di regia O se comunque Camplone opterà per il ritorno di Marco Romizzi Penso che sia più probabile questa soluzione Però un Donati a partita in corso è sempre molto utile Assolutamente concordo Donati che comunque può far valere una certa esperienza Che pochi giocatori in Serie B hanno E ora come ogni venerdì spazio i numeri Alle curiosità della prossima gara dei Galletti Per sapere tutto su questo Bari Modena Ci affidiamo al nostro Domenico Brandonisio Buongiorno Domenico Buongiorno Nicola, buongiorno Luca E buongiorno a tutti i radioascoltatori Allora Domenico, cosa ci racconta l'album dei ricordi? L'album dei ricordi innanzitutto ci presenta una partita Che è una specie di testa coda Perché comunque il Modena nonostante il 3-0 rifilato al Perugia Resta inchiodato al diciottesimo posto in classifica Con soli 39 punti Mentre dall'altra c'è un Bari Quota a 63 punti E dissato in terza posizione 18 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitti Lo scorre dei Biancolossi 11 vittorie, 6 pareggi e ben 20 sconfitti Invece lo scorre del Modena Si affrontano inoltre il quinto miglior attacco del campionato Quello del Bari con 53 reti Ma anche il peggiore attacco del campionato In coabitazione col Como con 33 reti Più o meno pari invece il livello della difesa 40 i gol subiti dal Bari Settima del campionato 44 quelli subiti dal Modena Ciò che fa di Caranina Non a difesa del campionato Sicuramente agli antipodi Anche il rendimento in casa E in trasferta di entrambe le squadre Se il Bari al Tannico Ha totalizzato ben 38 punti Nel sesto posto in questa classifica particolare Invece il Modena È la squadra che ha raccolto Meno punti di tutti in trasferta Solo 6 Ecco ciò la colloca al 22esimo posto La striscia delle ultime 5 gare Vede invece un Bari in splendida forma Con 4 vittorie ed un pareggio Mentre per il Modena Negli ultimi 5 turni Sono collezionate una vittoria Un pareggio E ben 3 sconfitte Rendimento del ritorno Vede il Bari adesso Aumentare la propria media Con 28 punti Sarebbe quinto Mentre invece il Modena Con soli 15 punti raccolti È al 20esimo posto I marcatori I cannonieri Delle due squadre Sono sempre Magnero Per il Bari Con 12 reti E per il Modena Luppi A quota 7 Quanto ai precedenti In Puglia Sono ben 36 Vedono 23 vittorie Del Bari 9 i pareggi E 4 le sconfitte L'ultima vittoria Di sale Risale al 14 settembre 2013 Un San Nicola Le ricorderete Desolatamente vuoto Con ben 936 spettatori totali Quella partita La risolse Cepitelli L'ultimo pari Invece risale Al 4 ottobre 2014 Finino a 1 Con le reti Di Caputo E Salifu L'ultima sconfitta Dei Galletti Il San Nicola Risale invece Al 21 gennaio 2012 In quell'occasione Il Modena Vince la partita Con un gol di Petri Da ricordare Tra le partite Più recenti Senza dubbio Quella del 9 dicembre 2006 Finì 1 a 0 Per il Bari In panchina Cera Maran E Gillet Nel finale Ebbe il merito Di parare Un rigore A Sforzini Negando così Ai canalini L'1 a 1 Ero un Bari Che viaggiava Verso il spedito Verso i playoff Che allora Arrivavano fino Alla sesta Classificata Tre gli ex di giornata Sono Gemiti E Tonucci Tra le fila del Bari In 20 voglio Tra le file del Modena Infine l'arbitro Il signor Ross Di Pordenone Classe 1985 Analista finanziaria Di professione Con il Bari In tre precedenti Non c'è mai stata Una vittoria Soltanto due pareggi E una sconfitta I pareggi I pareggi sono Bari Crotone E Bari Modena 1 a 1 L'anno scorso La sconfitta Quest'anno A Lanciano Per 1 a 0 Perfetto Tra gli ex Ricordiamo anche Camarà Nel Modena Domenico Una domanda È una risposta rapidissima A poter versere Ancora la maglia Bianco-dossa Credo che comunque Non possa avere Sempre i 90 minuti Delle gambe Quindi spazio Assolutamente A Romizzi Poi magari Donati potrebbe Subentrare Come spesso Sta capitando A partita in corso Perfetto Perfetto Ringrazio Domenico Brandonisio Domenico Grazie mille Ci aggiorniamo Alla settimana prossima Buona partita Ciao Grazie a voi Buona partita a tutti Bene Ora in attesa Di perfezionare Un nuovo collegamento Vado a leggere Qualche altro messaggio C'è un redd'ascoltatore Che non si firma Che dice La nostra è una squadra esperta Con un'età media alta Non effettuare Un mini turnover Sarebbe da pazzi Senza dimenticare Che potenzialmente Saremmo chiamati A disputare I playoff Dove vincerà Chi avrà più gamba Poi c'è un altro Redd'ascoltatore Che dice Ciao Nicola e Luca Io confermerei A chi moschi a sinistra E farei di entrare Romizzi Poi un pensierino A pusca Si in attacco In attacco Lo farei Pronostico secco Due a zero Insomma Redd'ascoltatori Abbastanza Convinti Circa l'opportunità Di effettuare Un Turnover E ora come ogni venerdì Spazio alla squadra E alla tifoseria Avversaria Per sapere tutto Sul Modena Di Bergodi Ci affidiamo Al collega giornalista Di parlandodisport.it Matteo Migliori In collegamento Da Modena Buongiorno Matteo E ben ritrovato qui A tanto non capirai Sull'altra radio Ciao Nicola Buongiorno a tutti gli ascoltatori Allora Matteo Domani a San Nicola Arriva un Modena Reduce dal bel successo Successo per 3 a 0 Contro il Perugia Magari una vittoria Inaspettata Per un Modena Che sembra in ripresa Sì Un Modena Che ha passato una settimana Molto positiva Come hai detto tu Viene da una vittoria Importante per 3 a 0 Una squadra Che ha il peggior attacco Non ci si aspettava Che potesse fare 3 gol Non ne ha subiti Era una vittoria Che mancava da Da 6 giornate Quindi sicuramente Importante Che da morale Alla squadra di Bergoglio E' stato ritrovato Anche il colo di Granoccia Quindi tutti i segnali Positivi Che fanno ben sperare Inoltre ci sono aggiunti 5 punti di penalizzazione Inflitti a Lanciano Che hanno portato Alla squadra di Bergoglio A un solo punto Dalla salvezza diretta Quindi sicuramente E' un'ottima settimana Che ha dato fiducia Alla squadra giallo-blu Modena Che con Hernan Crespo in panchina Ha avuto parecchie difficoltà A tirarsi fuori Dei bassi fondi Della classifica Mentre pare Che Bergoglio Abbia individuato La strada giusta Insomma magari c'erano Delle perplessità Circa il suo arrivo Bergoglio Che tra l'altro E' anche lui Molto vicino Alla panchina del Bari Dopo l'esonero di Nicola Bergoglio Insomma sta facendo bene Vi ha anche un po' sorpreso Forse no? Sì Bergoglio Sta facendo molto bene Ha dimostrato di essere Un allenatore esperto Che conosce bene la categoria E' arrivato qui a Modena E' appuntato subito Sul 4-3-1-2 E' individuato alcuni giocatori Che potessero essere Fondamentali Per questo modulo E soprattutto Si è preso da parte Quei due o tre giocatori Che aveva già avuto In passato Quando era stato a Modena Quindi Osugi Che magari non era mai Stato impiegato da Crespo L'ha ritrovato titolare Sta facendo ottime prestazioni Ha tornato a dare fiducia A Granocce davanti Ed è stato ripagato Quindi sicuramente Ottime prestazioni Da parte del Modena Di Bergoglio Che nell'ultima giornata Ha trovato anche risultati Quindi il Modena È in fiducia A morale E si spera Che possa fare Un finale di campanato Su ottimi livelli Anche se il calendario È molto difficile Ciao Matteo Buongiorno Luca Dell'Eteris Modena Che probabilmente Nella trasferta di domani Dovrà Rinunciare Fare a meno Di Mazzarani Che nella giornata Di ieri Si è sottoposto A un'ecografia Che ha evidenziato Una forte contrattura All'adduttore sinistro Un calciatore Sicuramente importante Ti chiedo Quale potrebbe essere La formazione Schierata Da Bergoglio Al San Nicola Ciao Buongiorno Sicuramente Il 4-3-1-2 Come ho detto prima È il marchio di fabbrica Di Bergoglio I giocatori Difese Centrocampo Verranno confermati Gli stessi Che hanno vinto Col Perugio Quindi Manfredini Tra i pari Difesa Con Osugi Terzino destro Rubin Terzino sinistro Gozzi E Marzorati In mezzo I tre di centrocampo Saranno Giorico davanti alla difesa Con Nardini E Bentivoglia Al suo fianco Come hai detto tu Purtroppo manca Mazzarani Che è un giocatore Che ha dimostrato Di essere Importantissimo Per questa squadra Da quando è rientrato Dall'Infortunio Ha sempre fatto Ottime prestazioni E è stato forse Il migliore in campo In ogni partita Nel suo posto Verrà schierato Bellingheri E davanti Credo che Di fianco a Granocce Non verrà riconfermato Stanco Nonostante Hade fatto una buona partita Col Perugia Ma credo Gli verrà affiancato Luppi Perché è un giocatore Più veloce Più dinamico In grado di saltare l'uomo E quindi mi aspetto Un Bari Che faccia la partita Un Modena Che provi a colpire In contropiede Con le ripartenze Quindi sicuramente Luppi È un uomo più adatto Rispetto a Stanco Bene Vi ricordo che siamo In diretta Con Matteo Migliori Di Parlando di Sport Punto It In collegamento Da Modena Matteo Tanti gli ex In casa giallo-blu O meglio Sono solo due Però Tra questi Ben ti voglio E soprattutto Camarà L'abbiamo citato prima Che aveva iniziato La stagione Proprio al Bari In prestito dall'Inter Sicuramente Un impatto positivo Per lui Nella vostra realtà Mentre qui In pratica Non l'abbiamo mai visto Per lui Neanche un minuto Con la maglia del Bari Sì Quando è arrivato Ha fatto subito Buone prestazioni È stato subito Schierato da Crespo Ha dimostrato Di essere il giocatore Che mancava al Modena Ovvero Un giocatore veloce Dinamico In grado di saltare l'uomo Poi Con il passare delle giornate È stato un po' accantonato Adesso È diverse partite Che non lo vediamo in campo Addirittura Nell'ultima contro il Perugia Non è stato nemmeno convocato Quindi È un giocatore Che comunque Nel corso del campionato E anche a gare in corso Nelle varie partite Può far comodo al Modena Modena L'hai detto tu prima Che se la vedrà Con un Bari Lanciatissimo Che in casa Difficilmente Concede punte Alle avversari Corretto pensare Ad una gara Attendista Da parte del Modena Sì È stata abbastanza Proibitiva Per il Modena Perché In trasferta Ha totalizzato Solamente sei punti Di cui una vittoria E tre pareggi E anche la vittoria Che è arrivata a Latina È stata soffertissima Perché i padroni di casa Hanno preso due pali Sbagliato un calcio di rigore Quindi Il Modena Lontano dal Braglia Fa molta fatica Sicuramente Gioca in un campo difficile Come quello di Bari Contro una delle squadre Più in forma del momento Quindi mi aspetto Che la squadra di Camplone Faccia la partita Il Modena Aspetti E provi a ripartire Il contropiede E proprio per questo Credo che venga schierato Lupi davanti Per provare Con le ripartenze A fare male Alla squadra di Ancorossa Matteo Ultimissima domanda per te Che clima si respira Nella città di Modena In vista di questa gara E credi che ci sarà Una rappresentanza Di tifosi giallobru Al San Nicola Come ti ho detto prima Questa gara È vista come una partita Un po' proibitiva Difficilmente Si pensa che il Modena Possa portare a casa Punti È chiaro però Che il calcio È fatto di episodi E strane Quindi può succedere Di tutto E non va dato nulla Per scontato Però i favori Del pronostico Sono tutti dalla parte Del Bari E per quanto riguarda I tifosi gialloblu Penso che Un centinaio Possano arrivare A Bari Quindi sicuramente Il Modena È sempre stato ben seguito Ovunque Dai tifosi gialloblu Che restano vicini Alla squadra Anche in questo momento Diciamo Dove il Modena Deve essere aiutato Per uscire Da questa zona Cata della classifica Perfetto Perfetto Io ringrazio Matteo Migliori In collegamento Da Modena Matteo Migliori Di Parlando Di Sport Punto It Matteo Grazie mille Buona giornata E buona partita Grazie a voi Buona giornata In bocca al lupo Per la partita di domani Grazie Crepe il lupo Crepe il lupo Allora Luca Un'analisi Un'analisi molto lucida Quella di Matteo Migliori Anche molto molto Onesta Un Modena Che sicuramente Verrà qui Per strappare Il punticino Intanto Ci arrivano Dei messaggi Altri messaggi C'è Nico Che dice A mio parere Ci stiamo girando attorno Il Bari sta vincendo Perché non prende Gol Con Guarna Avevamo la porta Praticamente Aperta Poi c'è un altro L'ascoltatore Che dice Io farei giocare Un tempo Ciascuno Si riferisce Al dualismo Se vogliamo definirlo così Romizzi Donati Magari primo tempo Per Donati Per sfruttare La sua esperienza Secondo tempo Per Romizzi Per sfruttare La sua energia Io concordo Pienamente Con questo ultimo Messaggio Luca Invece Un'ultima battuta Guarna Micai Giusto dirlo Micai sicuramente Trasmette sicurezza Non solo alla difesa Ma penso all'intera squadra Micai È una bellissima Realtà Perché Non si può più Parlare di sorprese Un calciatore Che si sta confermando Perché Non è mai facile Perché Possono capitare Le occasioni In cui Come poteva essere Avellino Un portiere si esalta E Si comporta In un certo modo Tra i pali Però Micai Sta dimostrando Attraverso soprattutto La continuità Delle sue prestazioni Di essere Un giocatore importante Un giocatore futuribile Perché non dimentichiamoci Che è un 93 Un calciatore Che secondo me Dovrebbe A prescindere Dalla categoria Far parte del futuro Di questo Bari Già Assolutamente sì Tra l'altro Ricordiamo Un calciatore Di proprietà Del Bari Bene Per oggi È veramente tutto Io vi ringrazio Per essere stati con noi Saluto e ringrazio Luca Delle Terris Ciao Luca A lunedì Ciao Nicola A lunedì Buon weekend Ovviamente Buona partita A tutti i tiposi del Bari Che saranno presenti a San Nicola E tutti i nostri radioascoltatori Ringrazio anche Domenico Brandonisio E Fabio Scorcia In regia Mentre Io vi do appuntamento A lunedì Sempre alle 7 Con tanto non capirai Orgoglio Obarese Sull'altra radio Mentre vi ricordo Che la replica Della puntata Andrà in onda Alle 13 e 15 Mentre in mattinata La puntata Verrà caricata Sul canale ufficiale YouTube Dell'altra radio Ma sarà anche disponibile Sul forum Sul sito GiorgoglioObarese.it E su tutte le nostre Pagine Facebook Forza Bari Speriamo in una vittoria In altri tre punti Noi ci risentiamo Lunedì mattina Ciao Da Nicola Lucarelli